Namaste, in questo video andremo ad eseguire una breve pratica utile ogni volta che ci troviamo ad affrontare un viaggio particolarmente lungo che comporta il cambio di fluto orario o comunque un cambio repentino di temperatura e ossigenazione dell'aria. A determinare i vari sintomi del jet lag e di queste modifiche dell'ambiente è la ghiandola pineale che è quella che produce la melatonina che è l'ormone che regola il benessere psicofisico e i ritmi circadiani. In questa breve pratica quindi andremo a lavorare proprio sulla ghiandola pineale attraverso il sesto chakra che è appunto il chakra associato alla ghiandola pineale e quindi andremo a far sì che la ghiandola si riequilibri e possa quindi determinare nuovamente benessere e equilibrio nei nostri ritmi circadiani. Ti invito quindi a trovare una posizione seduta che ti sia comoda, a chiudere gli occhi portando le mani sulle ginocchia. Porta ora le mani al cuore, namaskar modra ed iniziamo questa pratica intonando per una volta il mantra OM, inspira profondamente, inspira ed espirando rilassa le mani sulle ginocchia, mantieni gli occhi chiusi ed inizia ad ispirare dal naso completamente e lentamente, trattieni a polmoni pieni fin quando ti è comodo e espira dal naso completamente e lentamente. Trattieni a polmoni vuoti finché ti è confortevole e di nuovo inspira completamente, trattieni, e riparti, segui il ritmo del tuo respiro e resta a polmoni pieni o vuoti solo finché ti è comodo. Inspirando e trattenendo a polmoni pieni porta gli occhi in direzione del terzo occhio, in Sambhavimodra. e espirando e trattenendo a polmoni vuoti porta gli occhi in direzione della punta del tuo naso. Sambhavimodra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.